Buongiorno. Prego, si accomodi. Che cosa crede che sia questo? È il mio dito. E questo è il mio dito mignolo. Questo è il mio dito indice. E questo è il mio dito mignolo. Io punto il mio dito indice contro i suoi occhi così e adesso faccio lo stesso col mio dito mignolo. Posso farlo anche con tutti e due? Al medesimo tempo? Così? Posso fare esattamente come mi piace? Lei pensa che sia matto? Mia madre lo pensava. Lei pensa che puntare le dita contro gli occhi delle persone sia da stupidi? Posso comprendere il suo punto di vista? Lei è una persona intelligente. Ma sarebbe dello stesso parere se invece delle dita le puntassi contro il mio stivale o il mio pene. Perché ho questa ossessione degli occhi? È un'ossessione la mia. È possibile. Ma non dei miei occhi. Degli occhi degli altri. Gli occhi delle persone che mi portano qui. sono occhi così vulnerabili. La loro anima si manifesta attraverso quegli occhi. Lei è religioso. Io sì. Dalla parte di chi crede che stia Dio. Gli verserò da bere. Grazie. Grazie. Grazie.